Ma veniamo al tema. Il tema è uomini che ti rovinano la vita se ti innamori. Ti ricordo però che sui canali ti puoi anche abbonare. Ad esempio sul canale Crescita Personale con Massimo Tramasco potrai partecipare ad apposite live domande e risposte dove io in persona darò risposte alle tue domande. E poi gli abbonamenti ci sono sul canale Massimo Tramasco, ci sono quattro livelli di abbonamento. Sul canale Felicità Benessere c'è l'abbonamento Seminario Online per partecipare ai miei fantastici Seminari Online. Insomma, vatti a abbonare, il tastino abbonati, vicino il tastino iscriviti. Ma veniamo al tema. Uomini che ti rovinano la vita se ti innamori. Toglitili dai maroni. Allora, il primo tipo è l'appiccicoso. L'appiccicoso è un uomo bisognoso, vittimista, che sì che ti ricoprerà di attenzioni. Quindi aggancia te, malgasciona, che sei bisognosa, ma poi, diciamo, tende ad essere pazzo di gelosia. Ti chiederà di rinunciare alla tua vita sociale, di vedere soltanto lui. Cercherà di farti vivere dei sensi di colpa. E questo è, come dire, il prezzo che paghi. Ed è un prezzo molto, molto alto. Ti sembrerà, dopo un po', che ti succhi il sangue. Poi l'altra tipologia è il mammone. Il mammone, diciamo, è un uomo che va alla ricerca della mamma, non di una compagna. Ha la mamma che sta al primo posto nella sua vita. Quindi per lui è molto importante, la mamma, è molto importante, diciamo, una donna che abbia, come dire, le parvenze di una mamma. Gli viene difficile fare le cose che fanno gli uomini adulti, come ad esempio andare a lavorare, fare un lavoro che sia un... Non è un uomo di qualità, insomma, è un catramista di solito. Prendere decisioni, essere coerenti, insomma. E quindi tu farai veramente un suo regato materno. Poi un altro uomo in cui devi stare attenta è, diciamo, l'invisibile. L'invisibile è un uomo che è sposato, oppure fidanzato, oppure impegnato, oppure esce con un'altra, oppure, diciamo... Però si presenta come scontento della sua relazione, che però non ha ancora chiuso definitivamente, dice. Ma deciso, diciamo, di tenerti, insomma. Talvolta l'invisibile è anche una variante, diciamo, è quello preso dalla carriera lavorativa, o dai suoi obbi, o da qualunque altra cosa. Quindi ha sempre un buon motivo per non prendere impegni, insomma. Quindi avrai un'altra... avrai scarsa possibilità di poter ottenere qualche cosa da questa persona. Quindi il problema è innamorarsi. Altro tipo...